Nuovo aggiornamento da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Prudenza per la pioggia, al momento segnalata in A12 tra Pisa e Colle Salvetti e in A1 tra Monte San Savino e Valdichiana. In A11 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa. Mezzi in lento movimento, sempre in A11 tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Personale su strada segnalato in A1 tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione Firenze. Veniamo ai treni, il 41-29 Pisa-Roma viaggia al momento con 33 minuti di ritardo. Il 18-361 Firenze-La Spezia è cancellato da Firenze-Santa Maria Novella a Empoli, viaggiatori con il 40-21. Non ci sono altri aggiornamenti grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Grazie a tutti.